Buonasera, io sono Angela Vergata, per me è stata un'esperienza molto partecipe, sofferta e nello stesso tempo felice per il dolce ritorno della piccola Ajar. La solidarietà dei cittadini di Settingiano, Martelletto e Marcellinara è servita a comprare tante cose per la piccola lì in Marocco, ma se non fosse stato per le istituzioni locali, nazionali e internazionali la piccola Ajar sarebbe rimasta in Marocco. Mi preme ringraziare l'associazione volontari del Nati per amare, il sindaco Rodolfo Iozzo, Maurizio Giuliano, Vincenzo Giuliano, Anna Giuliano, il dottor Micucci Pasquale, Popolazione, Settingiano, Martelletto e Marcellinara, Proloco Settingiano, Proloco Marcellinara, Caterina Sirianni, Angelo Sirianni. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno dato un sostegno economico per la piccola Ajar. Grazie a tutti. Grazie a tutti.